Era programmato per mercoledì il sopralluogo sui canaloni per il deflusso delle acque piovane di Mollarella, Saffarello e Playa. L'ondata di maltempo, che si è abbattuta sulla Sicilia non risparmiando Licata, ha però fatto slittare il tutto, a darne comunicazione l'assessore alle risorse idriche Carmelo Sambito. Il vertice operativo con il consorzio di bonifica Gela 5 e con l'ente sviluppo agricolo di Caltanissetta è stato rinviato a martedì. I due enti coinvolti hanno competenza sui tre canaloni di cui abbiamo parlato in apertura di servizio. Per quanto concerne invece quelli cittadini, tallone d'Achille come dimostrato in occasione delle prime precipitazioni stagionali di una certa intensità, il Comune ha attivato un accordo quadro che è già in corso di esecuzione. Grazie a questo accordo è stato possibile espletare la disostruzione di uno dei tanti condotti presenti all'interno del quartiere Playa, in questo caso quello di via Maresciallo-Mongiovì, che senza il passaggio delle ruspe avvenuto martedì avrebbe finito sicuramente con l'allagare la zona, non potendo smaltire le grandi quantità di acqua arrivate dall'entroterra. Ci sarebbe poi da monitorare la situazione dell'impianto fognario, soprattutto nelle vie centrali. Gli esercenti e i residenti di Piazza Gondar, Piazza Duomo e Vie Principe di Napoli mercoledì hanno rivissuto l'incubo del 6 ottobre 2013, quando la città venne investita da una bomba d'acqua che allagò attività commerciali scantinati a condomini. Gli esiti della pioggia di mercoledì non sono stati fortunatamente così gravi, ma è chiaro che in vista dell'arrivo della stagione invernale in cui si alzerà l'asticella delle probabilità di precipitazioni, andranno liberate le fogne e i tombini così da permettere il deflusso dell'acqua in tempi brevi ed evitare la chiusura di alcune strade come avvenuto mercoledì in Piazza Gondar, riaperto solo dopo alcune ore.